La segnalazione arriva da un gruppo di pescatori, avvistata a largo delle acque torresi ieri pomeriggio una ghiaccia dal colore sospetto in mare. Potrebbe trattarsi tanto di residui di liquami sversati abusivamente nello specchio d'acqua antistante il belvedere Ponte Morandi, tanto, secondo le stimi di alcuni biologi marini, di un fenomeno di fioritura algale spiegabile alla luce delle eccessive temperature registrate nelle ultime settimane. Secondo i biologi, infatti, le temperature stagionali così alte degli ultimi giorni avrebbero incrementato il proliferare del tipico prodotto marino. A peggiorare la situazione è la contestuale azione delle ripetute mareggiate che avrebbero favorito un processo di disgregazione delle stesse alghe, le cui cellule, rompendosi, hanno generato tensioattivi tali come mostrano le immagini. Grazie per la visione!